L'Aquila è pronta per la notte bianca, spettacoli, musicisti, concerti, balli e intrattenimento per i più piccoli, con i negozi che resteranno aperti oltre l'orario. Il Centro Storico Cittadino vedrà attività in diverse location, Piazza Santa Maria Paganica, Piazza Duomo, Piazza Regina Margherita e Villa Comunale. Itinerario sicuramente condizionato dai cantieri presenti in città e ci sarà come sempre un bus navetta gratuito con partenza dal terminal, con corse sino alle due e mezza. Gli spettacoli saranno davvero per tutti i gusti. Partiremo nel pomeriggio, già nel pomeriggio dalle 15 alla Villa Comunale con la Space Family e Baby Dance con Yuma per poi culminare in un grande evento che è quello del Gran Galà della Notte Bianca che quest'anno si terrà di nuovo nella location di Piazza Duomo tra tutte le difficoltà del caso dovute alle cantierizzazioni ma con un evento che vedrà gli artisti di punta del Bunker 44 e tantissime altre partecipazioni da le ultime edizioni di Amici Nicolasse Cummo, tanti altri ballerini e cantanti di Amici delle passate edizioni e non ultimo l'apertura del campione impionico Fabio Basile. Altre attività previste sono nelle altre piazze come Regina Margherita con la Chiredio o in Piazza Santa Maria Paganica con i Gioerrina, gli inventori della social dance italiani. Quindi tantissimi eventi per cercare di revitalizzare una notte che ormai da diverse edizioni va sempre meglio. Un po' di rammarico però da parte dell'organizzazione ci sarebbe perché sarà consentito tutto fino a mezzanotte. Considerando che c'è la gara di calcio fino alle 23 degli europei resta ben poco spazio ma la festa non sarà rovinata. Non c'è stata alcuna deroga questa volta negli orari dopo l'ultima sentenza del Tar e il dispiacere che la notte bianca era stata pensata diversamente come accade in altre città d'Italia.